Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv Ben ritrovati amici di Agrilinea Italia, noi siamo sempre in collegamento, noi ci colleghiamo diciamo mediamente ogni 10 minuti da questa area di Fipe per parlare di tutto food, per parlare di questo mondo fantastico dell'agroalimentare italiano. Noi quest'anno abbiamo visto una cosa straordinaria, abbiamo visto il coinvolgimento dei produttori, parliamo di ecosostenibilità, parliamo di un prodotto più rispettoso dell'ambiente, parliamo di un prodotto buono, trasformato, ma quello che c'è di bello è che abbiamo i produttori, finalmente la ristorazione e i bar, anche prima lo facevano, ma oggi danno più valore a questo, appunto, il rispetto dell'ambiente, del territorio, del prodotto. Della qualità. Oggi partiamo con questo breve talk con diversi personaggi interessanti. Io voglio, prima di conoscere i nostri ospiti, vorrei partire con Luciano Sbraga che ha voluto fare questa iniziativa. Se avanzo, mangiatemi. Perché è questo titolo un po' strano, devo dire? Se avanzo, mangiatemi. Questo è uno slogan, peraltro non di nostra paternità, ma va attribuito a Comieco, che è il Consorzio per il recupero e il riciclo degli imballaggi di carta, lo dico in modo semplice. Però prima di entrare nel vivo, volevo, come Fipe, non è un'iniziativa di Sbraga, ma della Fipe che ha raccolto qui tanti protagonisti del mondo. Lei la rappresenta. Del fuori casa, perfetto. Devo ringraziare naturalmente tutti quelli che hanno reso possibile questa cosa. Sono anche qui da Rudy Citterio, Maria Teresa Abroggini, a cui va il nostro ringraziamento per quanto ha fatto per realizzare questa cosa. a tutti i partner da Casberg, una prova, magari di Comieco, Regusto, che è qui presente, forse ne dimentico qualcuno, ma non me ne vogliano. Andando subito al dunque, direi una cosa. Perché abbiamo fatto quest'incontro oggi con quel titolo? Perché è un bel titolo, in effetti, molto suggestivo, ma soprattutto perché è coerente con tutto quello che stiamo facendo qua dentro. Stiamo parlando di sostenibilità, di risparmio, ma soprattutto di una cosa che è quella di ridare valore al cibo. Il nostro impegno come mondo della ristorazione è essenzialmente uno. Il cibo non è una merce qualunque, è un condensato di valori culturali, sociali, ambientali e per questo merita rispetto. E il primo rispetto sta nel non sprecarlo. Quindi vuol dire trattarlo con cura, avere attenzione alla qualità, alla qualità in senso generale, che vuol dire appunto rispetto dell'ambiente, rispetto della salute, rispetto del gusto. Quindi una qualità tutto tondo. La FIPE è espressione di questi valori e vogliamo con alcuni partner, con alcune aziende della filiera, intraprendere un cammino. Che è il cammino appunto che cerca, in una sorta di continuità simbolica con Expo, di riportare il cibo al centro della vita di ogni giorno. Ma non come una merce qualunque. Scusate se mi ripeto su questo, ma credo che sia veramente il cuore del dibattito. A poca distanza da qui c'è un intervento che nessuno si sarebbe aspettato, del già Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che parlerà proprio di questo. Noi facciamo una cosa un po' più intima di quella così, ma pensiamo così senza immodestia di identico valore, anche dal punto di vista sicuramente del contributo che possiamo dare. Allora come FIPE stiamo avviando un percorso, non ci sono cose scontate, già fatte. Sicuramente il tema del recupero del cibo che non si consuma al ristorante pone una serie di questioni dal punto di vista della relazione con il cliente, della logistica, del rapporto vero con chi entra come cliente in un ristorante. Però si può iniziare un percorso virtuoso, vediamo dove arriveremo. Pian piano, mattone dopo mattone. Paolo Rellini, passiamo subito alla palla. Paolo Rellini che insieme ad altri, lei è un agronomo, ha iniziato questa esperienza interessante del riciclo utilizzando la rete, anche internet è per voi importante. E gli altri soci di cosa si occupano? Sì, grazie intanto per l'opportunità che ci dà FIPE di essere presenti in questo importante evento. Gli altri soci, innanzitutto la nostra startup innovativa che nasce in Umbria a partire da un'idea proprio di imprenditori agroalimentari che hanno riunito dietro un'idea un progetto concreto per recuperare cibo lungo la filiera, a partire dalla produzione primaria fino ad arrivare alla ristorazione passando anche per la distribuzione. La ristorazione chiaramente in questo caso è particolarmente importante anche per noi. Solo nella ristorazione lo spreco vale in Italia circa 7 miliardi di euro, per cui circa il 10% del fatturato. Che vi faccia bene capire, cosa c'entra la ristorazione con il riciclo, con voi? Riciclo, più che riciclo, recupero. Recupero di quali prodotti? Di prodotti che vengono appunto qualitativi, no? Sì, sì. Mi raccomando, perché quando parliamo di riciclo dobbiamo chiarire bene, perché è sempre scontato, ma quando parliamo di riciclo qualcuno ci preoccupa. Infatti appunto, più che di riciclo noi parliamo di recupero, cioè di alimenti che sono ancora buoni, che sono ancora commestibili a fine giornata, nel caso del ristorante, che possono essere messi in offerta ad un prezzo più conveniente mettendo in contatto appunto il consumatore con il ristoratore o con il produttore primario, attraverso appunto la rete, quindi un portale, un'app che stiamo in fase di test anche con i ristoratori, anche nel nostro territorio, ma anche al di fuori di esso, quindi dall'Umbria anche qui a Milano e con questo particolare obiettivo. Viviana Marino, è lei Viviana Marino, voi vi occupate di? Noi ci occupiamo, io sono di Just Eat Italia, per quei pochissimi che non lo conoscono. Beh, li stiamo già conoscerlo comunque. Just Eat Italia è una piattaforma di digital food delivery. Consegna a domicilio, mi dico, tipo una roba del genere. Esatto, quindi ordinazione di pranzo e cena a domicilio online. È un'applicazione, è sufficiente geolocalizzarsi dal luogo in cui ci si trova, l'applicazione trova i ristoranti intorno a lei. Non siete concorrenti dei ristoranti, no? No. Ah, mi raccomando, perché qui siamo in casa a Fipe. Incrementiamo il business dei ristoranti. Ah, ecco, non sarà meglio, perché qui altrimenti qualcuno potrebbe preoccuparsi. E il cliente fa l'ordine tramite l'applicazione e dopo circa 45 minuti arriva l'ordine di quello che lei ha ordinato a casa. Quindi lei praticamente ha contatto con il ristoratore in questo caso? Esatto, il ristoratore è presente sull'applicazione, con il proprio marchio, il proprio menu, il cliente sceglie quello che vuole dal menu che trova sulla piattaforma. Conosce il ristorante oppure è anonimo il ristorante? Certo che conosce il ristorante, assolutamente. Assolutamente sì, conosce il nome, il brand del ristorante, come si mangia dal ristorante. Bene, questi centri dove possiamo trovare? Siamo già operativi, no? Siamo operativi, ma talmente operativi che abbiamo 6.000 ristoranti in Italia. Quanti 6.000? 6.000. Cioè associati con voi 6.000 ristoranti. Siamo in 500 comuni, 6.000 ristoranti, quindi praticamente ovunque, anche seppur nella maggior parte nelle grandi città, si può ordinare tramite Just Eat. I tempi sono lunghi naturalmente, quando devono preparare... Allora, i tempi sono dal momento in cui lei fa l'ordine, più o meno si parla di 40-45 minuti prima che lei arrivi l'ordine. Arriva l'ordine e quando arriva a casa? A casa sua. A casa mia. A casa sua. Quindi 45 minuti di tempo. Facciamo prima stando a casa che andare al ristorante? No, vabbè, non c'è parte di scherzo, perché diventiamo veramente dopo. È interessante questa iniziativa. Poi lo chiediamo a qualche ristoratore, Luciano Sbraga, dopo se vuole anche fare questa osservazione. Allora, invece quest'altra signora si occupa di birra, Laura Marchini, parliamo di una birra Carlsberg. Carlsberg Italia, in questo caso Carlsberg, ma anche birrificio Angelo Poretti. Ah, ecco, sono più italiani in questo caso. Ecco, ci parli un po' di questa iniziativa collegata in qualche modo? Siamo molto felici di essere nello spazio FIPE perché il concept che portiamo qua si chiama ORECA Sostenibile. Canale ORECA sicuramente. Perché è sostenibile? Esatto, esatto. Concreto. Abbiamo portato un concept molto concreto. Sostenibile, perché è la parolina magica. Cos'è sostenibilità? Allora, sostenibile nel nostro caso che parliamo di birra. È sempre birra quella, no? Sempre birra. Cosa cambia? La birra, prima di tutto, io dico sempre come il maiale, non si butta niente. Il processo produttivo della birra da sempre fa sì che tutto ciò che esce come prodotto secondario rientri in qualche modo. Ad esempio le trebbie che escono dalla filtrazione della birra vengono riutilizzate come mangime. No, vado piano, piano, dobbiamo capire, noi siamo lenti. Maiale di corsa. No, vabbè, noi vogliamo capire bene. Ad esempio, un esempio pratico. Noi abbiamo un'esposizione qua, no? Esattamente. Abbiamo delle spine. Nel processo produttivo, ad esempio le trebbie, che è quanto rimane dalla prima filtrazione, viene riutilizzato come mangime per gli animali, ma dobbiamo continuare a migliorare. E quello che abbiamo portato a noi è un miglioramento anche nel servizio della birra. Un fusto in PET, quindi la plastica, che dà prima di tutto un prodotto molto più buono, perché non usa più la CO2 per spillare la birra. Già, la plastica è un po' in proprio, con il mieco già mi guarda male. Fa strano, ma in realtà perché grazie a questo nuovo sistema non si usa più anidride carbonica per spillare la birra. Quindi permette solo di spillare comprimendo il fusto con dell'aria dall'esterno. Ma siccome anche noi ci siamo posti la domanda, ma questa plastica quanto impatta sull'ambiente, abbiamo fatto l'analisi di... Molto. Invece, se lei prende i dati dell'analisi del ciclo di vita di prodotto, scoprirà che in questo caso è il modo più green e sostenibile per distribuire la birra. Un esempio, i rifiuti prodotti da un fusto in PET rispetto a una bottiglia di vetro in tutto il ciclo di vita del prodotto, 9 kg per quanto riguarda il fusto, 29 kg per quanto riguarda la bottiglia di vetro. Quindi si tratta di fare le cose fatte meglio? Si tratta di offrire qualità e nel contempo sostenibilità. Devono andare insieme le due cose. Sostenibile. Sostenibile. Comieco ha sentito, no? In questo caso non possiamo mettere la birra nel cartone. Però dico che la birra loro è buona, eh? Non so cosa... Molto buona. L'uppoli buonissima. È bellissimo anche lo spazio, queste isole tra di loro collegate. Complimenti, bravo. Io volevo essere solo una battuta per non prendere un po' le scatole. Parliamo di Comieco, questo consorzio di imballaggi, Consorzio Nazionale di Recupero e Riciclo di Imballaggi. Questa è la dicitura che dobbiamo memorizzare. Noi vediamo che in questi anni avete fatto delle cose straordinarie. Lo dico perché l'abbiamo visto tutti. Abbiamo visto che tutti in qualche modo riusciamo a riciclare meglio il cartone. Quelle montagne di cartone che troviamo nei mercati generali, fuori dai supermercati. Non li vediamo più. Vediamo che c'è più organizzazione. Perché c'è più organizzazione? C'è più organizzazione perché le amministrazioni pubbliche si sono rese conto che vale la pena di fare la raccolta differenziata e farla bene, anche perché laddove ci sono i consorsi, nel caso specifico Comieco e per carta e cartone, poi ci sono gli altri materiali, hanno la garanzia del ritiro e hanno la garanzia di ricevere anche un corrispettivo. Noi lo scorso anno abbiamo staccato un assegno di 100 milioni di euro per i comuni italiani, per i comuni cioè che fanno la raccolta differenziata, isole comprese, pantelleria per dirne una. Questi soldi vanno per l'ambiente poi dopo? Questi soldi vanno nelle casse dei comuni. Cosa i comuni poi facciano? Questo è un problema che bisogna... Dovreste obbligarli per le frane? Direi che prima di tutto dovrebbero pensarci chi sta nei consigli comunali e poi i cittadini che votano. Questo è il primo elemento. Però per quello che ci riguarda, in effetti, è cambiato moltissimo. È cambiato moltissimo. Voi tenete conto che nel caso specifico nostro, noi fino al 2005, l'industria catare italiana importava oltre un milione di tonnellate dall'estero, quindi è fondamentale nell'economia. Eravamo tutto sommato dipendenti su una cosa così fondamentale come la nateria prima. Dal 2005 siamo diventati autosufficienti e adesso esportiamo più di un milione di tonnellate di macero all'estero. È un cambiamento rilevantissimo e quindi qui mi dà il pretesto, se ho un secondo, anche per spiegare il se avanzo mangiatemi. A cartone non lo mangiamo, sicuramente. Certo. Questo non c'è dubbio. Noi siamo partiti da, come Comieco, da un piccolo gesto quotidiano. La raccolta differenziata è un piccolo gesto quotidiano. Quando la fai devi avere poi qualcuno che garantisce che quel piccolo gesto vada a buon fine, sennò è una perdita di tempo e ti rompi anche le scatole, appunto. Siamo partiti da questo, proprio quando stavamo entrando nel vortice di Expo, per dire ma noi che contributo possiamo dare? Lasciamo stare all'imballaggio che nel settore alimentare di carta e cartone è molto importante, rappresenta circa il 58% di ciò che viene prodotto in Italia, finisce nel settore food, per l'imballaggio in carta e cartone. Abbiamo pensato di ripartire da un piccolo gesto, che è quello appunto che ognuno di noi potrebbe fare quando il ristorante decide che è meglio portarsi a casa quello che è avanzato. È da lì che è partito tutta l'operazione del se avanza mangiate. Mi è credo che questo sia un elemento molto importante per le cose che diceva prima il Presidente, cioè lo spreco, ma anche secondo me per la qualità del ristorante. Perché vuol dire che c'è un rapporto di fedelizzazione importante che può nascere. Avete citato l'ex Presidente americano. Quando sono venuti a Milano la famiglia è andata al ristorante ed è uscita con un doggy bag. Noi ci bisogna chiedere un po' a chiedere al ristoratore, e invece dobbiamo cambiare testa. Tutti e due credo, il cliente sicuramente, ma anche il ristoratore che deve vedere in questa opportunità non un obbligo con una serie di noiosissime, ma invece una potenziale opportunità sulla quale lavorare. E io devo dire, noi ne abbiamo distribuiti gratuitamente, lo dico per gli operatori che avevano partecipato, in più di 200 ristoranti italiani, tra Milano, Lombardia, Roma e altre città, e devo dire che hanno avuto un esito assolutamente positivo. Un dato, l'utilizzazione maggiore che c'è stata, almeno in questa parte che abbiamo seguito, che stiamo seguendo noi, è nel settore delle bevande, quindi il vino. Uno va al ristorante e non si pone più il problema di dire che questa bottiglia costa un po' troppo e siamo solo in due e non riusciamo a finirla, rimane lì. La compra perché se la può portare a casa, quindi non si pone più quel problema. Sa che se fa un investimento gli tornerà poi indietro perché la consuma. Invece per quanto riguarda il cibo, la cosa interessante è che è emersa, che la domanda lì è crescente, direi fondamentale, quando i commensali sono più di tre. Allora diventano tavolate e in questo caso c'è una richiesta per portare a casa qualcosa, che può essere il dolce finale per tutti o non so che cosa. Però ecco lì c'è un consumo maggiore. Io lavorerei in quella direzione, se mi permette un ultimo passaggio, anche perché mi risulta che in un settore che fondamentalmente è una funzione di influencer fondamentale, che sono le guide gastronomiche, sta entrando la logica di segnalare con un pittogramma, credo che lo farà per primo Golosario, con un pittogramma trattorie e ristoranti che forniscono questo servizio. Quindi diventa un valore aggiuntivo del ristorante. Cerco quel ristorante perché so che posso trovare anche questa cosa. Allora io, qualche ristoratore, prendiamo qualche ristoratore qui a caso. Allora posso venire un attimo da lei? Allora guardiamo questa camera qua. Allora lei è d'accordo, aspetta direi, è d'accordo su tutto quello che stiamo dicendo? Assolutamente sì. Perché faceva una strada dove mi sembrava un po'... Allora, io sono ristoratore e è venuto a questa fiera perché cerca sempre nuove idee. Ha assolutamente bisogno di fare innovazione. Il cibo è fondamentale ma devi anche divertire. Non devo fare Masterchef, lo lascio a Cracco, lo lascio agli altri. Devo trovare il modo per fare business, per poter dare gli stipendi ai miei dipendenti, ma anche per continuare una tradizione che nel mio mondo è dei 50 anni che la mia famiglia fa ristorazione. Venire alla fiera vuol dire avere spunti. E cambiare un po' testa anche? Ma testa è che tutti gli anni devo farlo quando devo pagare le imposte. Devo capire se devo continuare a farlo questo mestiere. Che è molto difficile, come lei sa. Il Corriere della Sera diceva che molti si suicidano ormai anche dei grandi oppure vanno in crisi e devono andare poi a farsi controllare la testa. Allora avere lo spunto di dire devo avere il mondo della birra vicino a me perché l'impianto la spina poi non mi crea problemi nei fusti. Devono dare un prodotto che è più salubre perché non deve avere addizionato una ride carbonica. E quindi è innovazione. Quindi questa signora qua oggi... Assolutamente, ha tirato un prodotto innovativo che ha dieci spine e io posso fare la ricerca di studiare la pietanza più idonea a una qualsiasi delle loro sette spine. Ma anche devo dire al mio cliente che arriva con la famiglia perché devo pensare anche al mio bambino, non quale gli danno il menù e dice voglio mangiare gli spaghetti alle vongole perché non mangiano il menù bambini. I genitori la colpa che gli dicono cosa mangi. Magari per risparmiare lo portano da McDonald's. va benissimo, però se lo portassero più spesso al ristorante, se lui mangia poco poi quel bambino è abituato a mangiare lo stesso pasto, la stessa pietanza la sera a casa. Quindi pensare al doggy bag è questo che mi consente di dire non è sprecato, il bambino lo accontenti. Non ci dica la verità, qualche volta in tempi passati, quando qualcuno voleva le cosiddette rimanenze del tavolo... Ma lei dimentica, lei ha mai partecipato ai matrimoni di una volta? Quando ho finito il matrimonio entravano in cucina? Cos'è rimasto? Io sono molto giovane, quindi... No, no, succede anche adesso. Quindi il doggy bag a noi serve per questi motivi. Bene, un applauso al nostro ristoratore, che è anche il nostro... rappresenta anche la FIMP, no Luciano? Anche perché l'abbiamo cercato... Dalle risposte di De Hidda, che è il ristoratore che ha parlato poc'anzi, avete capito che avrebbe fatto meglio a sedersi a questa sedia, al posto bio, perché avrebbe detto cose sicuramente più interessanti come ha fatto. In effetti, è un'opportunità, in quella logica del valore del cibo, noi dobbiamo tutti metterci in gioco. Dove è stato fatto l'esperimento con Comieco, le cose hanno funzionato, bisogna abituare il cliente, bisogna abituare l'impresa, il ristoratore, bisogna farlo insieme. Questa è un'operazione che si fa facendo, appunto, come dicevo all'inizio, e torno al punto di partenza, un pezzetto di strada alla volta per arrivare a un risultato che è quello di dire evitiamo di buttare il cibo nella spazzatura, perché è vero che è un prodotto, è un rifiuto nobile, è organico, nobile, per questo quasi non si dovrebbe neanche pagare, lo dico per inciso, ma è una cosa veramente che è contro la sensibilità del tempo e a questo riguardo anche qui Just Eat poi magari racconterà l'esperienza che stanno facendo loro e sono per questo motivo li abbiamo coinvolti in questa tavola rotonda per fare anche con loro cose che stanno già facendo a livello pilota, credo, anche se la cosa è già avviata. tornando a Fipe l'esempio dei doggy bag messi a disposizione qui da Comieco con noi sono peraltro molto molto belli per cui sembra veramente un gioco portarsi il cibo da casa, credo che aiutino in questa operazione anche a far superare quel clima di imbarazzo che a volte si crea, si raccontava dei banchetti di una volta, si fa ancora, anzi sta tornando questa cosa non per bisogno, non è un problema di bisogno ma di cultura. Una volta al cibo si stava molto attenti perché valeva, era importante che non venisse sprecato, oggi bisogna fare altrettanto. Allora a questo punto racconti la sua esperienza visto che ha un ruolo importante anche in collegamento con la ristorazione. Allora abbiamo pensato visto i volumi di ordini che facciamo come poter supportare il tema dello spreco. Siamo partiti da tre insight. I dati FAO e VWS che stimano 1,3 miliardi di tonnellate di cibo che viene sprecato prima di arrivare a tavola. Quindi questo mi fa pensare che il problema sia anche nella filiera precedente al consumo. Il secondo insight è la legge sullo spreco alimentare che è passata in Italia a settembre di cui credo, correggetemi se sbaglio, si aspetta attuazione. E poi un'indagine che abbiamo fatto sui nostri ristoranti. Abbiamo mandato fuori una survey, ci hanno risposto in 500 ristoranti in tutta Italia. quello che è emerso è che l'80%, più dell'80% è interessato al tema dello spreco alimentare. Un ristorante mediamente più del 40% butta via il cibo una volta alla settimana e sul tema di cui parlava prima Comieco soltanto il 10% di questi 500 ha a disposizione una doggy bag. Rispetto invece ai clienti che chiedono la doggy bag al ristorante per più del 50% dei casi. Quindi abbiamo messo insieme tutto questo e quello che noi facciamo e abbiamo pensato di lanciare questo progetto che si chiama Ristorante Solidale è in collaborazione con Caretta Sambrosiana e con il Comune di Milano che ci ha dato il patrocinio per questa prima parte pilota. Abbiamo coinvolto per il momento 15 ristoranti sulla città di Milano. Una volta al mese raccogliamo le eccedenze alimentari di questi 15 ristoranti e li portiamo esattamente come una consegna di food delivery quindi tutto già porzionato caldo e pronto da consumare in 4 comunità di accoglienza milanesi che ci segnala ogni volta Caretta Sambrosiana. In questo modo recuperiamo le eccedenze che vanno direttamente in circa 40 minuti di viaggio in 4 comunità milanesi e danno da mangiare a circa una sessantina di persone. Siamo ai ristoranti va l'applauso ai ristoranti che partecipano è un progetto ancora piccolino però insomma siamo alla terza consegna abbiamo consegnato 450 pasti quindi sono contenta di dirlo e stiamo per aprire speriamo entro settembre Torino quindi ci vogliono ristoranti che partecipano lo dico ecco l'importanza di Fipe è fondamentale e mi viene da dire magari anche di una doggy bag da dare ai ristoranti Just Eat perché no? Impressante allora passiamo di nuovo passiamo da quest'altra parte direttore quindi mi sembra che il cartone sia lo strumento l'accessorio per autonomasia per poter gestire bene questa situazione si presta sicuramente bene almeno stiamo parlando adesso delle doggy bag naturalmente le soluzioni possono essere con diversi altri materiali certamente questa gamma dei doggy bag a cui siamo arrivati è stato il risultato di una eccezionale direi team perché tenete conto che l'idea è nata assieme a D'Andea Kerbacher che si occupa di tantissime cose ma che hanno a che vedere con la cultura e i libri soprattutto con De Lucchi che è un noto architetto ma che con la tematica non si era mai cimentato e con loro si è costituito questo gruppo di tre designer di tre packaging design che poi ha portato a questo risultato che secondo me come giustamente dicevate voi divertente cioè l'ottimizzazione di fondo era facciamo in modo che il doggy bag rappresenti un momento anche divertente piacevole non deve essere un fatto noioso o a volte anche un po' squallido a me è capitato in un ristorante stellato di chiedere il doggy bag eravamo nella fase sperimentazione si è creato lo sconcerto poi me l'hanno portato e me l'hanno consegnato in un sacchetto di plastica di quelli banalissimi che effettivamente generava immediatamente un impatto piuttosto straniante straniante all'interno di quel contesto eccetera io credo che partendo proprio da questo elemento cioè dare una proprio una una sua caratteristica così facile da usare anche spiritosa e riusabile se voi ci pensate bene questi sono tutti riutilizzabili in diverso modo cioè possono diventare una volta portati a casa anche un contenitore da riusare per altre cose e quindi credo che questo sia lo sforzo più importante su cui lavorare perché va a modificare un comportamento io credo che la parte più importante e qui mi rivolgo alla ristorazione che ha una funzione culturale straordinaria è proprio quella di riuscire a modificare un comportamento il doggy bag che rientra all'interno di una gamma di opportunità che ci sono nel momento in cui io mi siedo a tavola può fare anche lei questa funzione di tra virgolette civilizzazione e credo che sia significativo molto interessante per chiudere di un ristoratore italiano milanese in questo caso vegetariano vegano che ha partecipato all'operazione e che però ha avuto questa intuizione che credo stia da allora sviluppando e cioè ha pensato non tanto al doggy bag quando uno si alza da tavola e porta a casa con sé quello che è rimasto ma un doggy bag che invece esca dalla cucina perché utilizza quelle parti che non sono servite e ne può fare quindi un'opportunità di omaggio al cliente che è presente ecco un'altra idea in maniera elegante molto elegante questa è anche buona allora regusto Paolo Rellini allora questa questa nuova moda possiamo chiamarlo così ha bisogno di una qualcuno che concentri anche l'offerta quindi anche a questo avete pensato per la ristorazione sì appunto la funzione diciamo del portale dell'app è quella chiaramente di concentrare l'offerta e di segnalare appunto delle opportunità per il cliente vicino diciamo al luogo in cui si trova di appunto trovare un prodotto che può essere acquistato ad un prezzo più conveniente l'iniziativa di cui parlava appunto Comieco in questo da parte del ristorante che appunto ha pensato ad una doggy bag diciamo in cucina è proprio quello a cui a cui pensiamo noi cioè di rendere diciamo dare un'opportunità anche di recupero economico da un punto di vista economico per il ristorante di recuperare quel prodotto che altrimenti sarebbe soltanto uno spreco anche economico per il ristorante Laura Barchini allora concludendo perché ci chiedono dobbiamo chiudere approfittiamo anzi verremo con le nostre telecamere a vedere un po' cosa succede soprattutto a bere una birra tutte insieme ecco come viene recepita questo nuovo messaggio questo nuovo prodotto assolutamente interessante perché tante volte non si pensa che anche la birra possa avere un ruolo in tutto questo e soprattutto l'aspetto più interessante sono le sinergie che si creano con i partner qua infatti noi siamo con il nostro impianto di spillatura ma con una serie di partner per raccontare insieme la stessa storia il doggy bag nasce da un'idea di Comieco in collaborazione con i ristoranti su cui si può innestare Just Eat la cosa più positiva di tutto questo è proprio la rete che si innesca da soli si fa poca strada insieme se ne fa molta infatti anche noi abbiamo un workshop che si chiama uno più uno fa molto più di due quindi l'idea è questa insieme possiamo raccontare cambiare i modelli di consumo e gli approcci la birra fa la sua parte non spreca perché questo sistema permette tra l'altro di ridurre anche gli sprechi di prodotto quindi con anche un risparmio economico soprattutto di portare qualità a chi la beve nel locale e poi cercando di trasferirla anche a casa costi sapori profumi cambiano qualità è assolutamente migliore è molto migliore grazie a questo sistema perché la sostenibilità deve andare di pari passi alla qualità la gradevolezza di una doggy bag così rispetto al sacchetto di plastica fa molto la differenza quindi se non c'è questa gradevolezza non c'è neanche l'innovazione non c'è la sostenibilità bene mi sembra di aver dato uno spaccato interessante noi prego prego venga qua a favore di camera venga qua vicino a me io sono Maurizio Tasca sono un dirigente FIPE vengo da Ragusa a Ragusa per quanto riguarda il discorso del tutto quello che la sera rimane che non possiamo vendere in domani pur essendo anche in ottime condizioni di tutto tempo fa è stato costituito un consorzio chiamato il pane del giorno prima praticamente in una prima fase raggruppava solo i panificatori che raccoglievano il pane che rimaneva il giorno prima tutto convogliato in un panificio per poi essere distribuito a tutte le famiglie decendi famiglie povere io ho saputo di questo mi sono affiancato ho fatto un po' la ricerca per quanto riguarda bar e ristorante stiamo veramente lavorando bene è un ritiro che loro fanno ogni giorno sono legalmente riconosciuti quindi a livello sanitario a livello finanziario a livello tutto noi siamo perfettamente in regola perché si è stipulato un piccolo contrattino giornalmente scriviamo in un foglio tutto quello che loro ritirano e si sta diffondendo vi volevo solo portare alla platea questo nostro esempio che stiamo vedendo che sta avendo il risultato quindi anziché di cercare solo i ristoratori volevo consigliare fare in modo di costituire qualcosa del genere che poi sicuramente i ristoratori verranno appresso grazie bene questo può diventare dottor Luciano Sbraga un'attività un'attività vera e propria oppure possono essere solo associazioni di volontariati quella del recupero no no ma queste possono essere associazioni possono essere nel caso di Just Eat un'azienda peraltro quotata in borsa alla borsa di Londra se non sbaglio quindi lo possono fare tutti noi abbiamo voluto fortemente la legge sullo spreco alimentare siamo stati più volte in audizione sia alla Camera che al Senato perché siamo stati sempre favorevoli a questa a questa legge abbiamo spinto perché come anche altri perché venisse approvata e adesso prendiamo l'impegno magari di darci un appuntamento magari una volta l'anno per fare un po' il punto sullo stato d'avanzamento di questo progetto del doggy bag al ristorante della riduzione dello spreco magari tutti insieme possiamo fare qualcosa si va regolamentato assolutamente bene con questo noi abbiamo terminato questa breve apparentesi noi rilanciamo la linea allo studio centrale saluti frutta e verdura sono essenziali per il nostro benessere e le sostanze protettive che compengono caratterizzano spesso i loro colori vivaci il blu viola per esempio anche questo ricco di vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e contribuisce alla riduzione della stanchezza segui la linea dei 5 colori consuma ogni giorno almeno 5 porzioni di frutta e verdura ciascuna di colore differente tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv 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 www.agrilinea.tv